Sottotitoli! A tutti i miei testici, ai ragazzi che viaggiano con noi, voglio regalare un urlo, un grido, e una grande, grandissima fiducia! Buon ora a tutti! Buon ora a tutti i miei testici, ai ragazzi che viaggiano con noi, voglio regalare un urlo, un grido, e una grande, grandissima fiducia!